Non mi sarei mai aspettato di raggiungere questo traguardo, nonostante fosse il traguardo che da sempre mi ero prefissato di raggiungere. 10.000 persone che mi seguono, che esprimono i loro parere, 10.000 persone che hanno problemi con i feed, perché YouTube ci trolla tutti. Sono riuscito a raggiungere questo traguardo grazie a voi. Dopo 10.000 molti si aspettavano uno speciale, invece no, uno speciale non basterebbe a ringraziarvi tutti, bisogna fare di più. Oltre al classico Dragon Ball inizieremo a trattare anche di altro e spero che molti riescano a capire quanto sia importante la cultura orientale, perché è sempre stato questo l'obiettivo del mio canale, fare capire alle persone che dietro delle semplici animazioni definite da tutti i cartoni animatici sia del significato, dei messaggi da cogliere, un obiettivo da raggiungere, sacrificarsi per gli altri, continuare a lottare, spesso anche per una causa persa. Spesso si continua a lottare nonostante si sappia che non cambierà nulla, proprio come nella vita che siamo costretti ad affrontare giorno per giorno. Nonostante le difficoltà che la vita ci pone, bisogna guardare avanti e non mollare, e se vi dicessi che in vita mia io non abbia mai mollato, mentirei a tutti voi principalmente a me stesso. Voglio continuare su questa piattaforma, ed accrescere questa community, e nonostante la maggior parte della gente continui a dirmi come si chiama la canzone della intro, io continuerò a rivederla all'infinito. Questo è affetto, cazzo. Probabilmente finirò sotto qualche ponte indebitato come non mai per i panini con le cotolette che devo a 10.000 persone. Ed ora chiamo all'appello tutti voi che state vedendo questo video. I video di Dragon Ball continueranno ad uscire, ma insieme a questi ci saranno altri anime, quindi di cosa vorreste che io vi parli? Scrivetelo nei commenti, perché ne terrò conto. Vi svelo subito che se questo canale un giorno dovesse arrivare a 100.000 iscritti, vedrete a me lanciare pacchi di pasta dal balcone. E voi visitatori potete contribuire a questo pasticidio, iscrivendovi al canale e lasciando un like come supporto. Grazie. 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 Grazie.